Si parla, signori, e si continua a parlare della crisi eventuale, possiamo anche dire, crisi con Stefano De Martino. Però qui spunta fuori un indizio stavolta. La coppia è tra le più seguite chiacchierate di sempre, questo sicuramente, su questo non abbiamo dubbi. Ormai i alti e bassi sembrano far parte della loro quotidianità e basta infatti pensare poco per gettare in allarme i fan, basta veramente poco. E c'è stato un silenzio, molto prolungato come quello che sta avvenendo sui social, ma anche una presunta distanza tra i due che lascerebbero pensare che la crisi ci sia già, sia praticamente già in corso. Certo, nessuna conferma da parte dei diretti interessati, nessuna smentita, ed è proprio per questo motivo che la caccia dell'indizio è sempre aperta. Insomma, qualsiasi cosa si possa trovare può portare magari, sì, ad avere sempre un pensiero, perché non c'è nessuna ufficialità. Ma ecco intanto che cosa si è scoperto nelle ultime ore. La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i fan a caccia del nuovo indizio sulla coppia. Un momento delicato per i genitori di Santiago? Ancora la verità stenta a uscire allo scoperto, ma al contempo i fan continuano a raccogliere le prove che potrebbero condurli presto a fare emergere qualche dettaglio in più sulla questione spinosa. Proprio come è accaduto nelle ultime ore. Sembra infatti che proprio dal profilo Instagram di Belen si ha scomparsa misteriosamente una foto. I fan più attenti ovviamente non potevano lasciarsi sfuggire il dettaglio, sollecitati anche dalle pagine di gossip che proseguono a investigare sul caso. Ma al di là della foto, per così dire, ha scomparsa anche un altro dettaglio avrebbe fatto scattare l'allarme, quello della mancanza della fede al dito del conduttore. Un indizio per nulla poco irrilevante se messo in relazione con i selfie pubblicati da Belen Rodriguez e del marito Stefano De Martino letteralmente rimossi dal suo account. Nello specifico il selfie in questione era stato scattato proprio nel corso dell'ultima vacanza che i due hanno trascorso piacevolmente insieme, un momento che per i fan era stato preso come conferma di una crisi ampiamente superata. Poi la rimozione dello scatto è il caso che si è sicuramente infittito. Tutto questo, se si considera che i due abbiano preferito la via del silenzio. Nessuna conferma o smentita. Ma allora qual è la situazione di coppia? Ma per mettere da parte la questione privata e sentimentale tra i due, è pur vero che per il conduttore e papà di Santiago i nuovi palinsesti televisivi sembrano averlo premiato. Nella scorsa settimana è arrivata la conferma di Stefano De Martino alla guida di non uno ma due programmi, l'insostituibile Bar Stella e il De Martino Show. Insomma, i fan potranno al momento consolarsi così.